Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il libro Gli straordinari poteri del subconscio di Janet Young. Il risveglio dei poteri del subconscio rilascia forze potentissime. La regione inconscia della mente è in grado di compiere azioni indipendenti. L'universo è governato da leggi. L'universo è soggetto a queste leggi. E le leggi devono essere seguite. I poteri soggettivi rispondono alla suggestione. L'essere umano è divinamente dotato del potere di dominare e la ragione deve assumere il controllo. Questi poteri spirituali vengono donati affinché vengano utilizzati per mostrare l'esistenza di un potere creativo sempre a disposizione dell'uomo che lo sappia utilizzare saggiamente. Per ottenere i risultati maggiori, la parte oggettiva e quella soggettiva della mente devono agire in armonia. E Young ci fa vedere come. Cominciamo subito con questo riassunto. Per distinguere i suoi diversi aspetti, la parte della mente di uso quotidiano è stata definita mente oggettiva e la regione che si occupa del pensiero profondo mente soggettiva. E' stato dimostrato che la mente soggettiva è in grado di agire in modo indipendente. La mente, attraverso una concentrazione intelligente, può collegare il pensiero con queste correnti eteriche illimitate o forze spirituali che circondano lo spazio. Queste forze sono governate dalla legge secondo cui la domanda crea l'offerta. Gli strumenti e i mezzi per ottenere quello che volete sono sempre lì. Il problema è che spesso non ne siete consapevoli. Solo quando questo avviene possiamo sfruttare il nostro potere illimitato per creare benessere nella nostra vita. Per dimostrare il potere della mente è essenziale la conoscenza di questa legge. Dobbiamo sentire la nostra identità con i poteri divini attraverso lo spirito che ci abita. Young parla di concentrazione sugli ideali, la reiterazione del fatto che il potere è solo in attesa di essere riconosciuto, la comprensione che la fede controlla questo potere infinito che si manifesta e la legge spirituale superiore stabilirà la risposta in base all'intensità e all'attività della volontà del ricercatore. La mente oggettiva osserva e ragiona su piani e ideali, e poi tramite suggerimenti alla mente soggettiva riceve intuizioni e risposte di pensiero che illuminano il nostro piano o quello che vogliamo realizzare. Il subconscio comunica con poteri invisibili. Con la concentrazione e la reiterazione della fede si può realizzare un potere continuo. L'autosuggestione è il grande miracolo psicologico. Concentratevi sul benessere, sulla bontà e non su quello che manca. Andiamo a vedere come Young spiega l'autosuggestione. L'autosuggestione, che è una conversazione mentale con il subconscio e trasmette istruzioni e richieste, genera e comunica le risposte del subconscio. Abbiamo spiegato come il subconscio ottiene le informazioni della nostra coscienza senza filtri e lavora con l'intelligenza infinita per realizzare quelle credenze. Se noi decidiamo cosa vogliamo e ci crediamo, i mezzi arrivano senza doverci preoccupare di come. È necessaria la perseveranza nell'autosuggestione, la reiterazione della fede e il riconoscimento dei suoi poteri e della padronanza di sé. Questa è anche la parte più difficile dell'autosuggestione. Quando pensate di avere già qualcosa che non avete realmente, avviene una sorta di lotta tra il vostro subconscio e la coscienza. Questa idea viene rifiutata e in quel momento bisogna diventare abbastanza bravi ad imprimere questa idea nella nostra coscienza e di conseguenza nel nostro subconscio. Per riuscirci serve fede e padronanza di sé. Questo è il segreto del successo. Non bisogna mai dubitare di se stessi. Bisogna sentirsi come ci si sentirebbe se si fosse già in possesso di quello che si desidera. Perché questo attrae quello che vogliamo verso di noi. Sentendoci così ci poniamo ad un livello molto elevato di vibrazioni ed energia positiva il che contribuisce a manifestare quello che desideriamo. L'autosuggestione è il grande miracolo psicologico. Abbiamo detto che tutto ha origine dal nostro mondo interiore ed è per questo che diventa essenziale convincere prima noi stessi mettendoci in armonia con quello che desideriamo per poi andare a creare quello che desideriamo avere. E dopo l'autosuggestione o la suggestione o l'affermazione a se stessi che ciò che si desidera è possibile che la mente soggettiva ha poteri di realizzazione e che sarà disponibile ad essere controllata dalla suggestione rafforzata della fede e della convinzione lasciate che la mente soggettiva si esprima se istruita e rispettata risponderà fedelmente alla fiducia riposta in essa. Le autosuggestioni date alla mente soggettiva la stimolano all'azione impartendo le istruzioni intelligenti. La conoscenza delle leggi che regolano i poteri soggettivi può dominare e controllare gli eventi la ripetizione persistente dimostra e rivela la propria visione l'intuizione dimostra la presenza e il potere della mente soggettiva di manifestare i poteri divini della volontà le energie latenti le facoltà non sviluppate possono essere risvegliate per stabilire una comunione con l'intelligenza interiore che risiede nell'anima che può così compiere meraviglie la causa invisibile dell'effetto visto. La mente soggettiva è una guida affidatevi ad essa credete in essa e ringraziatela è una presenza vivente sempre al nostro fianco e al nostro comando data fin dall'inizio per eseguire i nostri ordini le sue leggi possono essere padroneggiate per guidare la vita quotidiana Yang analizza anche l'importanza delle possibilità possibilità e miracoli secondo lei significano la stessa cosa le forze magiche sono in ogni individuo desideroso e nella mente soggettiva pronte a servire la volontà illuminata esse si rivelano prima interiormente soffermandosi sul possibile raggiungimento rivelando lo spirito che spinge l'energia della conoscenza la conoscenza pratica può essere ottenuta con l'osservazione e l'esperienza l'individuo che ha così padroneggiato e controllato il sé ha raggiunto l'armonia ha superato e non è più influenzato dall'ambiente circostante ma crea la propria filosofia di vita riconoscendo i propri poteri nella misura in cui comprendiamo percepiamo ed esercitiamo questa conoscenza dei poteri subcoscienti scopriremo e discerneremo nuove fasi di questi poteri il potere della mente sul corpo rafforza le energie mentali e fisiche la ricettività e il riconoscimento la convinzione e la fede attualizzano e vitalizzano la sua supremazia i suggerimenti ispiratori benedicono chi dà e chi riceve l'anima si eleva all'esaltazione spirituale all'intuizione intellettuale e al comando abbiamo in noi un principio immateriale completamente indipendente il potere risponde all'appello e all'opportunità i pensieri allegri e armoniosi attirano influenze utili rivelano segreti celesti e aiutano in ogni impresa il pensiero calmo illumina l'intelligenza superiore questo era il libro Gli straordinari poteri del subconscio di Janet Young un libro che ci insegna che per ottenere risultati migliori la parte oggettiva e quella soggettiva della mente devono agire in armonia spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio della vostra attenzione ci risentiamo nei prossimi video ciao